Sono terminate le procedure di sbarco dei 64 migranti giunti questa mattina al porto di Marina di Carrara a bordo della Ocean Viking della ONG SOS Mediterranea. I migranti sono all'interno dei padiglioni di Carrara Fiere per le procedure di identificazione e controlli sanitari. Tra loro 12 minori non accompagnati, tutti sopra i 14 anni, nessuna donna. La maggior parte proviene dall'Africa subsahariana, alcuni da Bangladesh, Siria e Pakistan. Il prefetto di Massa Carrara, Guido Aprea, ha precisato che dei 64 migranti arrivati oggi, solo 5 rimarranno nel territorio di Massa Carrara. Sono 3 adulti e 2 minori. La nave, entrata in porto alle 7.15, ha raggiunto le coste toscane dopo aver soccorso l'8 giugno i migranti nel Mediterraneo meridionale, nella zona Sarlibica. Per il porto di Marina di Carrara si tratta complessivamente del tredicesimo sbarco dal 2023, il quarto del 2024. Per la Ocean Viking è la seconda volta allo scalo a puano.